Da una calabrese all'altra il Gela in appena sette giorni si ritrova sulla sua strada un'altra formazione calabra. Dopo aver battuto domenica scorsa al Vincenzo Presti l'ex capolista Rende, domani i Biancazzurri saranno di scena a Roccella. Sulla carta, ma solo sulla carta, l'impegno non dovrebbe rappresentare un ostacolo in considerazione del fatto che i reggini annasparo in piena zona play-out. Ma mai fidarsi delle apparenze, parole e musica del difensore Angelo Bruno. L'importante non è mai porsi i limiti. I Roccella è una squadra calabra, conosco benissimo le persone, ho avuto a che fare con gente come loro ed è gente che non molla mai. La classifica è bugiarda, sappiamo benissimo com'è il campionato di Serie D, però l'importante non è mai porsi i limiti e pensare partita dopo partita a guadagnare il massimo punteggio. In casa Gela si parla di salvezza da guantare il più presto possibile e poi si vedrà. Secondo me è presto per parlare di grandi sogni, però se partita dopo partita pensiamo veramente a fare del bene. Abbiamo capito, abbiamo imparato che anche in altre categorie se tu non ti poni i limiti e pensi piano piano può arrivare anche in alto. Ma come si spiega la metamorfosi del Gela? Una squadra che va a fratta maggiore, prende cinque gol, poi ritorna in casa, gioca con la capolista, in quel caso rende e vince 2-0. Ho imparato a mie spese che è una questione di mentalità, perché se tu vai in campo convinto dei tuoi mezzi, senza superficialità e senza soprattutto sottovalutare l'avversario, puoi giocare con chiunque. Però appena ti guardi un po' in alto e inizi un po' ad alzare i piedi, puoi perdere anche con la più scarsa delle squadre. Ci sono attualmente in vetta la classifica due squadre siciliane, la Leonzo e l'Igia Virtus. Ci credevi all'inizio del campionato? Della Leonzo conoscendo i nomi sinceramente sì, dell'Igia un po' meno, però ti ripeto in questi campionati la mentalità fa tanto, fa di più della tecnica e della qualità. Il terzino biancazzurro è felice di avere sposato il progetto Gela. Mi ha accolto subito benissimo, soprattutto i compagni, anche il nuovo mister, i tifosi, non mi hanno fatto mai mancare nulla, non potevo trovare di meglio sicuramente. Domenica scorsa non ho giocato perché hai scontato un turno di squalifica, adesso ritorni in campo? Guarda, sono contento e stimo molto Bulades e in questo momento l'ultima partita ha fatto benissimo, quindi non mi sorprenderei se giocasse lui, anche se io gioco lì cambia poco, perché l'importante è dare il 100% per la squadra. E vince. Sempre. Sempre.